Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate tedesche. L'involuzione di André Konopka, Josie Klee cambia vita. Lo chef stellato del Furstenhof si ritroverà in un mare di debiti. Ad annunciarlo sono i nuovi spoiler di Tempesta d'Amore. Preoccupato per il suo futuro, André Konopka si renderà protagonista di alcune azioni inconsuete che, purtroppo, costeranno care a Josie Klee. Reduce da una bruttissima delusione in campo sentimentale, la ragazza deciderà di cambiare vita e di rilevare il caffè Liebling. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate tedesche. André Konopka diventa, un ladro. André Konopka tornerà al centro della scena, con una vicenda tutta propria che non sarà affatto piacevole. Lo chef stellato del Furstenhof, come annunciano le anteprime, sarà protagonista di una truffa nei confronti del suo stesso hotel, e dei suoi stessi colleghi che lascerà tutti basiti. Negli ultimi tempi, tra intrighi e storia d'amore finite male, la vita di André è sempre molto movimentata. E tale situazione non andrà di certo migliorando nel corso della diciottesima stagione della serie. Ma cosa accadrà di preciso? Tutto comincerà quando nella sua vita piomberà una donna, Bettina Schoenefeld. L'uomo, grazie a lei, recupererà la fiducia nell'amore, soprattutto alla luce delle più recenti delusioni sentimentali, rappresentate da Linda e dalla olandese Lintie. Ma, ecco il colpo di scena. Con il passare delle settimane, emergerà che la New Entry è una donna subdola e manipolatrice che è giunta fino a Bicline, dopo aver fatto alcune indagini sul Konopka. Come vedremo, l'uomo verrà citato nel testamento di un personaggio molto ricco e facoltoso. I soldi faranno gola alla donna che farà di tutto per ingannare André allo scopo di vivere tra agi e ricchezze. Non tutto, però, andrà come previsto. André non ci metterà molto ad analizzare i suoi comportamenti, ed a scoprire le sue intenzioni. E non è finita qui. Poco dopo averla piantata in asso, il Konopka scoprirà di non avere ereditato alcuna fortuna dall'amico milionario, ma soltanto un vecchio cappello da cuoco privo di valore. Inoltre, si ritroverà di punto in bianco senza lavoro perché, nella convinzione di essere sul punto di cambiare vita e di diventare ricco, rassegnerà le sue dimissioni dal Furstenhof. Nella faccenda interverrà Werner, dispiaciuto per la situazione del fratello, deciderà di ridargli nuovamente fiducia e di assumerlo di nuovo come capocuoco dell'hotel. Per dargli una bella lezione, però, gli proporrà delle condizioni più sfavorevoli rispetto al passato. Triste e demoralizzato, André vivrà dei momenti davvero difficili in cucina e non riuscirà a realizzare più i piatti gustosi di una volta. In aggiunta a ciò, il Konopka dimostrerà di essere in gravissime difficoltà economiche per aver contratto dei debiti pesantissimi e per essersi dato allo shopping folle. Per questo motivo, non vedrà altra soluzione se non quella di studiare un piano, volto a ristabilire il proprio conto in banca. Che cosa farà? All'oscuro dei vertici dell'hotel, deciderà di servirsi degli ingredienti della cucina del Furstenhof per organizzare, un servizio di catering ed intascarne i guadagni. Dopo alcuni giorni, ecco che Werner, scaltro quale è, dopo aver effettuato dei rigorosi controlli in dispensa, noterà subito delle importanti irregolarità. Purtroppo, però, invece di sospettare del consanguineo, addosserà tutte le colpe su Josie Klee, la protagonista della diciottesima stagione nonché Nuovo amore tormentato di Paul Lindbergh. Nel giro di poche ore, la ragazza, ingiustamente, verrà sospesa dal suo incarico di aiuto cuoca. E André? Che cosa farà? Avrà oppur meno scrupoli di coscienza? La risposta è no. Lo chef non avrà il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Trascorse alcune settimane, ecco che Werner, però, si renderà conto che il ladro non può essere Josie, i furti, infatti, saranno di nuovo all'ordine del giorno. Disgustato, interrogerà il fratello. E da quel punto per il conopca saranno guai seri. Cosa succederà? Verrà licenziato? Alle prosime news. Anticipazioni tempesta d'amore. Puntate tedesche. La svolta di Josie Klee. Non ci sarà pace per Josie Klee nelle nuove puntate in onda in Germania. Dopo aver perso il lavoro a causa degli intrighi di André, la giovane dovrà vedersela con una amara delusione sentimentale che la spronerà, a prendere una decisione inaspettata. Come già vi abbiamo spoilerato, Paul e Josie inizieranno una relazione che non sarà esente, però, da problemi. Il Lindbergh proverà a lasciare la sua fidanzata, Constanze Fontaline, per rifarsi una vita con la Klee. Ma, non sarà per niente facile farla rassegnare. Constanze, infatti, studierà un intrigo per portare l'ex atleta ad odiare la sua amata. E ci riuscirà benissimo dal momento che, una mattina, Josie si recherà nella camera di una certa Tatiana per fare le pulizie. E resterà di stucco nel trovarvi Paul Semi vestito e confuso. Scioccata per essere stata tradita con così tanta facilità, la giovane capirà di non poter continuare a vivere in quelle condizioni. E, in virtù di ciò, prenderà una decisione drastica ed inaspettata, ovvero. Lasciare il first and off. A dispetto dei pronostici, però, Josie non partirà. Deciderà di restare lo stesso a B-Climb ma di cambiare soltanto lavoro. E così, dopo una lunga riflessione, deciderà di continuare a dedicarsi alla sua passione, la cucina, e di diventare un'imprenditrice, aprendo su un'attività come pasticcera. L'idea si rivelerà vincente al punto che tutti loderanno il suo coraggio, e la sua intraprendenza. A sostenerla, inoltre, ci penserà Christophe Salfield, felice di aver incontrato un vero e proprio talento. Il ricco albergatore, colpito dalla sua bravura, arriverà a finanziarla anche economicamente. Ma perché questa mossa? Dovete sapere che Josie è la figlia di Eric e di una donna di nome Yvonne Klee che giungerà N Hotel, per sistemarsi una volta per tutte economicamente. La donna inizierà una frequentazione con Christophe ma, nel giro di poco tempo, si scoprirà innamorata di Eric, suo passato flirt. Per non condannarsi ad una vita di sofferenze, deciderà di continuare a vedere il Vogue solo segretamente, facendolo suo amante. Dunque, mosso dall'amore per Yvonne che le farà dimenticare Selina Fontalheim, che lascerà il paese con Cornelius, l'albergatore accetterà di rilevare il caffè Liebling, locale che risulterà vacante a seguito della decisione di Rosalie di cercare fortuna altrove. Josie, inutile dirlo, sarà felicissima di questa nuova avventura professionale e nel corso di essa, incontrerà un ragazzo molto affascinante di nome Leon Thorman che, in breve tempo, le farà dimenticare Paul. Imprenditore serio ed ambizioso, il nuovo arrivato arriverà a B-Climb, con l'intento di aprire una filiale per un noto produttore di cioccolato. Josie, in un primo momento, apparirà come una sua rivale in affari. Leon, preoccupato, penserà bene di avvicinarla segretamente nella speranza di estrometterla facilmente dal mercato. Le cose, però, non andranno come preventivate. Quando Leon proverà i dolci della Klee, resterà molto colpito dalla sua bravura. Così, passerà tutti i giorni a trovarla, finendo per sviluppare dei veri e propri sentimenti per lei. Per la prima volta nella sua vita, le faccende di cuore, diventeranno più importanti del lavoro. E tale situazione, lo metterà estremamente in difficoltà. Cosa succederà, poi? Alle prossime news per succosi dettagli. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!